Il ruolo della formazione professionale in Piemonte e nel contesto nazionale è al centro del rapporto che è stato presentato nell'auditorium della sede di Corso Inghilterra della città metropolitana di Torino. Il rapporto e le attività di ricerca nascono dalla collaborazione fra l'IRES e l'osservatorio regionale sul mercato del lavoro. A sua volta la città metropolitana investe nell'analisi delle politiche e degli interventi, stilando un rapporto annuale che scaturisce dai dati raccolti dal proprio osservatorio orientamento, istruzione e formazione professionale. Il rapporto IRES 2016 è dedicato al contesto socio-economico, al sistema dell'istruzione e della formazione professionale, diviso per target e segmenti formativi e alle azioni orientative di prevenzione della dispersione scolastica. Dai dati del rapporto emerge un calo di iscritti al sistema scolastico e formativo piemontese nel suo insieme, dovuto alla diminuzione del numero complessivo dei bambini che frequentano le scuole materne e all'arresto della crescita di allievi stranieri. Crescono i livelli di scolarizzazione degli adolescenti e in calo la dispersione scolastica anche grazie alla formazione professionale, il 12,6% contro una media italiana del 14,7%. Permangono difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro, pur con un tasso di disoccupazione in calo dell'1,1% nella fascia di età dai 15 ai 24 anni. Sono i diplomati a incontrare le maggiori difficoltà nel primo ingresso al lavoro e occorrerà lavorare ancora a fondo anche sulla formazione e la riqualificazione degli adulti. Questo rapporto è un rapporto che facciamo da tanti anni a beneficio della Regione e delle istituzioni che in Regione operano per dare un quadro d'insieme integrato della scolarizzazione e della qualificazione della nostra popolazione, in particolare giovanile ma anche adulta, a beneficio naturalmente delle politiche di programmazione, dei servizi e degli interventi a beneficio di chi fa orientamento per il mercato del lavoro. Sono migliorate le prestazioni complessivamente del sistema formativo, il sistema produttivo non risponde però a questa aumentata qualità di chi esce dal percorso di formazione? Non riesce a rispondere nella misura adeguata, nella misura sufficiente, dà delle risposte che finiscono per essere al di sotto del bisogno e questo finisce per generare anche una competizione all'interno del mondo giovanile che porta un po' a una svalorizzazione dei titoli di studio. Chi ha una laurea accetta di lavorare in posti che sono rivolti ai diplomati, chi ha un diploma accetta di fare in una certa misura l'operaio e chi ha una qualifica professionale rischia di trovarsi spiazzato del tutto. Ecco, dobbiamo uscire da questa trappola perché è una trappola che non valorizza quello che abbiamo creato e soprattutto rischia di demotivare chi deve ancora investire nei prossimi anni in istruzione e formazione facendogli credere erroneamente che i titoli di studio non valgono e non rendono.